Ibrido, Ibrido. Ibrido è una parola che negli ultimi anni è stata di dominio quasi esclusivo del mondo dell'automotive, dell'industria dell'automobile. Tutti abbiamo imparato a conoscere l'auto ibrida, quella composta da motore elettrico e motore termico. Ma negli ultimi mesi la parola ibrido è entrata dirompente ed è diventata centrale della narrativa di molte aziende del mondo high-tech, delle grandi società di consulenza strategica ed infine è stata riproposta e riproposta con grande enfasi da tutti i media. Tutti insieme, con grande forza, in modo unanime, senza neanche porsi troppo il dubbio di doversi differenziale, ci hanno posto di fronte a una visione del futuro, quasi a una sentenza, che recita il futuro del lavoro è ibrido. Io non so voi, ma a me la parola ibrido evoca un'attività artificiosa, intrusiva, è una parola fredda, che ha poco senso quando si parla di lavoro, si parla di donne, si parla di uomini e infine si parla di vita. Mi fa pensare a squilibri, scompensi, a compromessi. Ibrido non sembra essere la ricchezza che si genera quando si incontrano le differenze, ma piuttosto mi fa pensare ad elementi eterogenei, non legati fra loro, che vengono mescolati a forza e che quindi generano una nuova dimensione, perdendo le proprie potenzialità e sostanzialmente perdendo qualcosa. Allora, il futuro del lavoro è ibrido. Non lo so, io quando penso alla parola ibrido legata al lavoro, non devo guardare al futuro, devo andare indietro di circa 40 anni. Negli anni 70, in un piccolo paesino della bassa mantovana, lo zio di un mio amico che si chiamava Italino, aveva sia la bottega di barbiere che la pompa di benzina. Forse in questo caso avremmo potuto chiamarlo un benziniere, un barbinaio. E se penso al lavoro e quindi al futuro, la parola ibrido mi fa pensare che sia in realtà controcorrente rispetto a quello che sta succedendo. Il lavoro mi sembra andare sempre più nella direzione della specializzazione. Noi oggi parliamo di HR specialist, marketing specialist, sales specialist. Per cui devo dire che la parola ibrido mi fa un po' pensare quando parliamo di lavoro. E devo dirvi la verità, mi sembra non linguisticamente corretta e mi succeda anche qualche preoccupazione. Allora, che cosa ci stanno dicendo in realtà quando parlano del futuro del lavoro ibrido? Io ho provato a leggere un po' queste comunicazioni. Sostanzialmente ci dicono la stessa cosa, con due declinazioni leggermente diverse. La prima parla di hybrid workspace, di spazi di lavoro ibridi. Allora, anche qua mi interrogo perché dubito e auspico che non succeda. Vedremo i nostri uffici con tinello e divano letto. Quindi l'unica cosa che probabilmente dovremo ibridare sono le nostre case, le nostre abitazioni. E ce lo propongono in questo modo. Studi bellissimi, ben arredati. Immagino che tutti voi in platea abbiate a casa vostra un angolo di questo tipo, in cui lavorate con massima concentrazione e con grande serenità. Però penso che questa foto sia più fedele alla realtà di quello che avviene tutti i giorni. Io durante il periodo del lockdown ho visto persone utilizzare l'assa da stiro come scrivania. Ho visto persone, uomini, professionisti, seduti in piccole sedie nella cameretta dei bambini con alle spalle i poster dei rapper. La realtà mi sembra leggermente diversa da quella che ci stanno raccontando. E non credo che tutti saranno nella condizione, in futuro, di avere in casa degli spazi per poter ospitare il lavoro e lavorare in modo attento. L'altra declinazione, invece, è quella dell'hybrid working. E qua la focalizzazione è molto più sulle piattaforme tecnologiche, sulle piattaforme di collaborazione. E quindi il video. Il video che diventa uno strumento importante che va a sostituire le nostre relazioni fisiche, la nostra dimensione virtuale. Il video ci mette a disposizione la possibilità di interagire con altre persone senza essere fisicamente insieme. E questa è la rappresentazione. Adesso, al di là del politically correct di questa slide, che come vedete, etnie e gender sono perfettamente bilanciate e rappresentate, la prima cosa che questa slide non dice, perché non si vede sotto la cinta, è che dietro a quegli abiti di lavoro, e confessate, sono sicuro che in sala c'è qualcuno che ha messo la camicia e la giacca, ma sotto aveva il pantalone del pigiama. Io non ho problemi a confessarlo, io più di una volta avevo la bermuda e la camicia e la giacca mentre facevo delle video call. Poi ci sono una serie di cose che secondo me non mi convincono di questa slide. La prima, hanno tutti perfette definizioni video, hanno tutti luoghi di lavoro meravigliosi, sono tutti sorridenti e sono tutti felici. Soprattutto hanno tutti il video acceso, cosa che non succede normalmente quando ci sono delle riunioni in video. Quanti di voi hanno disattivato il microfono, disattivato la telecamera, adducendo problemi di connessione, di banda, e poi si sono messi a fare altro? Molto. Abbiamo molto da fare. Il video sicuramente è uno strumento potentissimo che ci offre la possibilità di lavorare in modo diverso, però sicuramente non è la risposta a tutti i problemi che abbiamo quando parliamo di futuro del lavoro. Quindi la parola work-life balance, che ci ha accompagnato per circa 20 anni, sostanzialmente la mandiamo in pensione, perché l'ibrido è esattamente l'opposto. L'ibrido cerca di bridare, non cerca di trovare un equilibrio tra la nostra dimensione privata e la nostra dimensione professionale. E allora che cosa dobbiamo fare? Ma intanto, secondo me, dobbiamo porci il problema. Dopo che ci siamo posti il problema, probabilmente dobbiamo fare quello che facciamo col digitale quando entra nelle nostre aziende. Facciamo unbundling e ribundling. Questo è quello che il digitale fa. Scompone e ricompone, in un ordine nuovo. E noi, che forse inconsapevolmente abbiamo già iniziato ad ibridare le nostre vite, dobbiamo in questa fase probabilmente scomporre e ricomporle, trovando un equilibrio nuovo che ci porti a separare più possibilmente i livelli. E perché dobbiamo separare i livelli? Perché abbiamo disperatamente bisogno di trovare ritmo. Se sono in video call con un collega, con un amico, non posso essere disturbato dal corriere che mi consegna un pacco. Non posso sentire il bambino che piange. E non posso preoccuparmi se l'acqua della pentola bolle. Ma non per quelle frazioni di minuto, o quei pochi minuti che ci sottraggono a quello che stiamo facendo. Semplicemente perché perdiamo ritmo. E nel lavoro abbiamo bisogno di ritmo. Nella nostra vita privata abbiamo bisogno di ritmo. Se siamo a cena con i nostri amici e con la nostra famiglia, non possiamo ricevere chiamate di lavoro. Non possiamo essere disturbati da delle mail urgenti o presunte tali. Perché non è il minuto che ci assentiamo. È il ritmo che perdiamo. E infatti nel calcio, questo viene chiamato fallo tattico, e viene sanzionato con un cartellino giallo. Come fare? Io non ho tutte le risposte. Però ho alcune esperienze che mi sento di condividere con voi. La prima è abbandoniamo la retorica del too busy. Che cos'è la retorica del too busy? E vi faccio un esempio. Quando chiami qualcuno e gli dici come vai, come stai, com'è andata la tua giornata di lavoro? Una risposta potenziale è fammi la prossima domanda. Quindi non ho neanche voglia di parlarne. E poi c'è magari chi dice un disastro, un incubo, non ne posso più. E subito dopo segue una litania che generalmente dice guarda, mi sono alzato stamattina alle otto e mezzo, ho avuto la prima volta, non sono riuscito neppure a mangiare. Ho mangiato due tarallucci al volo, poi ho avuto call, sono le otto di sera, ho staccato adesso il video e mi trovo una montagna di mail di arretrato e quindi non so che ora finisco. Allora, ci sono due opzioni. La prima opzione è se questo è vero e non succede in modo occasionale ma succede in modo sistematico avete un problema. E ha un grosso problema anche la vostra azienda. Perché state probabilmente confondendo il lavoro con la performance agonistica. Nessuno può sostenere questi ritmi. E se performance agonistica, per chi ha fatto sport, sa che l'agonismo contempla l'allenamento e il riposo. Se siete in questa situazione avete un problema e datevi da fare per risolverlo. Se le aziende sono in questa situazione e devono sostenere le proprie performance attraverso 12 ore di lavoro, 5 giorni alla settimana di tutti i propri collaboratori, compreso poi una parte il sabato e la domenica, hanno evidentemente un problema di sostenibilità. E poi c'è una seconda ipotesi. La seconda ipotesi è che non sia del tutto vero. Che alimentiamo questo tipo di narrativa perché abbiamo raccontarci in questo modo. Perché pensiamo che questo è il modo con cui veniamo accettati. È il modo con cui vogliamo proporre agli altri noi stessi. Ovvero, dei lavoratori instancabili. Ecco, se siete nella seconda opzione, io direi che la possibilità è quella di smettere oggi. Secondo, siate molto disciplinati con voi stessi e soprattutto rispettosi del tempo degli altri. E questo vale soprattutto per tutti coloro che hanno dei ruoli apicali all'interno dell'azienda. Non fissate riunioni alle otto e mezza del mattino, non mettete riunioni durante il break di pranzo, non costringete i vostri collaboratori a rispondervi il sabato e la domenica. Terzo, create negli altri un'abitudine. Vi dico quello che faccio io. Se qualcuno mi scrive alle 13.30 mentre sto pranzando o alle 7 e mezza di sera quando sono con degli amici a avere un aperitivo a cena con la famiglia, se mi telefona, io non rispondo, mando un messaggio dicendo sono impegnato, se tratta di qualcosa di davvero urgente, 9 volte su 10 la risposta è ah no, scusa, non ti preoccupare, ci sentiamo domani. Dobbiamo creare negli altri l'abitudine di non trovarci in qualsiasi momento della giornata e loro sentono la necessità di chiamarci a meno che questo non sia urgente. E le urgenze per definizione devono essere quasi delle eccezioni. Se no, se viviamo in uno stato di urgenza e di emergenza facciamo i pompieri e non facciamo un altro tipo di lavoro. Partecipate solo a riunioni in cui ci sia un'agenda e in cui sia chiaro il vostro ruolo. Io credo che ci sia un eccesso di presenzialismo. Io vedo molte persone che quando vengono invitate a un meeting partecipano senza guardare di cosa si parla, partecipano senza sapere esattamente qual è il contributo che possono offrire alla discussione, si collegano, tolgono il microfono, tolgono la videocamera e sostanzialmente lasciano il loro nome a beneficio di chi partecipa che si possa ricordare che loro c'erano. Questo non genera valore. Dobbiamo avere il coraggio di dire di no. Se pensiamo che il nostro tempo non sia investito nel miglior interesse della nostra azienda, dei nostri clienti e dei nostri colleghi abbiamo la facoltà di dire non partecipo e faccio altro. E infine sostituite le riunioni di un'ora con riunioni di 45 minuti. non si può lavorare in modo seriale. Dobbiamo avere il tempo di pensare a quello di cui abbiamo discusso e il tempo per prepararci alla riunione successiva. Spostando le riunioni da un'ora a 45 minuti in una giornata sarete in grado di costruirvi un giacimento di tempo di circa due ore che sono tempo estremamente prezioso. Allora, le parole hanno una straordinaria forza, evocano emozioni, ci spingono, ci guidano. Io credo che dobbiamo avere grande rispetto delle parole e quando penso a lavoro e a futuro non voglio la parola ibrido nel futuro del mio lavoro. Io preferisco allora la parola armonioso ben proporzionato nelle sue parti con i livelli chiaramente separati o almeno il più possibile. io credo che l'ibrido lo possiamo solo subire mentre l'armonia la possiamo costruire. Grazie. Applausi Grazie.